Scoperto traffico di DVD pirata gela dalla Guardia di Finanza. Durante i controlli di fine anno volti a prevenire e vigilare sul commercio e la detenzione illecita di artifici pirotecnici, gli uomini delle fiamme gialle della locale compagnia, a seguito della perquisizione di un esercizio commerciale successivamente dell'abitazione del titolare, hanno scoperto una vera e propria centrale di riproduzione illecita di materiale coperto dal diritto d'autore. Sequestrati 6 hard disk per un totale di 6,5 tetra byte di capacità, 2 PC, 341 DVD illecitamente riprodotti e privi del prescritto contrassegno SIAE detenuti per la vendita. Denunciato il titolare dell'esercizio commerciale per i reati di riproduzione e detenzione per la vendita di prodotti audiovisivi illecitamente duplicati. Altri 700 DVD illecitamente riprodotti e privi di contrassegno SIAE sono stati sequestrati dai finanzieri della compagnia di Caltanissetta a un extra comunitario durante il mercatino settimanale. Proseguirà in questi giorni l'attività di controllo di tutela economica e finanziaria del territorio.